WAHEI CUCCI! Ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su Kirby la nuova stoffa dell'eroe Andiamo a toppa a glaciare senza perdere tempo Stavo pensando di giocare tutta quanta la serie e poi magari alla fine recuperare i tesori Però non mi piace molto questa idea Perché, sì, giocare il livello, lasciarlo e finirlo, finire il gioco ci metterei molto meno tempo Perché trovare tutti quanti i tesori mi prenderebbe molto più tempo che non giocare la serie così, capito? Giocarla tanto per finire il gioco e via Non lo so, non mi piace questa idea Quindi penso che non va bene Allora, vediamo un po' qui che succede Ah, già vedo cose lì sopra Vediamo un po' Occidenti, che c'è qui? C'è l'acqua Ah, ma anche qui l'acqua addirittura Questo cos'è? Ok, solo delle perline Vediamo un po' Intanto giochiamo Poi Nel mentre se riesco a prendere anche a primo tentativo tutti quanti i tesori è meglio È molto carino il livello della neve, eh? Non me l'aspettavo invece Ma perché questa acqua qui posiziona? Cioè non serve a nulla Tu dici, eh, è per dare un po' un tocco diverso al livello Va bene Ma No Cosa? Ah, certo Maledetto Porca miseria ragazzi Ma poi ci lanciano Dei Dei batuffoli di neve Non sono, vale dire Sono batuffoli quelli Aspetta Ok, preso E qui non c'è nulla Ah, aspetta però Se salto Nulla Aspetta Ah, quindi questo qui E lancia qui Va a finire qui, no? Ah, però non posso Non posso sconfiggerli quelli Però preso Così almeno non mi disturba più Basta Fermati Qui che c'è? Ma ragazzi sono molto curioso Mi piace questo livello Ah, ecco, vedi C'è qualcosa Se riusciamo ad aggrapparci Grazie Devo ancora capire Se Kirby si aggrappa da solo Quando ci sono Quei 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 chiodi Quei bottoni Sono bottoni, non chiodi Come fanno a essere chiodi? Letto orsone Un letto coccolone Che tiene la tua testa Al fresco E il tuo corpo a caldo No, Kirby non si aggrappa da solo Ma neanche quando lancio questo Devo premere B? Sì, beh, vabbè No, perché mi stava venendo il dubbio Ma Certe volte va Certe volte non va Allora dico sai, no? Ok I nemici ora non ci stanno E non respawnano neanche Però qui sopra A non dirmi che è solo per Per qualche perlina Sembra che si possa andare sopra Ma poi alla fine No Quindi come ci arrivo sopra? Scusatemi E qui si muore? Vabbè ma Ma scusate Oh mio Dio Ma cos'è? Siamo impazziti Tu non hai niente da fare Lì sopra No ragazzi Io qua sicuramente Ho lasciato qualcosa Ma come vado sopra? Principe Cosa mi dai la bomba? Ma io sono sicuro Di aver lasciato qualcosa Da qualche parte Pure questo ci mancavamo Ma io devo andare sopra Mi sta Mi sta Mi sta Piancare male sta cosa Mi prende proprio male Mi prende proprio male davvero Ok ha preso questo ora Cioè vuol dirmi che ora posso fare il livello all'incontrario? No non posso farlo Ma come funziona? Io non ci sto capendo niente Ho lasciato un tesoro che ho visto che stava lì ma E un altro che No questo non è un tesoro ma vabbè vabbè Un po' di perline Qua che succede mo? Ma tu non c'è niente da fa? Eh per favore non cominciamo A cosa serviva? Boh Beh qui possiamo nasconderci ma non serve più E ho mancato Due tesori Dovevo andare sopra lo so ma come ci arrivavo? Non lo so Non ho la minima idea Eh solo uno Ma toppa quanto? Rifacciamo un po' il livello Vediamo un po' dove va questo Ah qui Proprio vicino vicino E apre Senti la fredda? Un guanto Una casa Non un guanto Sì una casa guanto Baiti accoglienti Fuori facciamo sto livello veloci veloci Cerchiamo Ho scoperto che si può salire sulle palle di neve Che lanciano i waddle d E no Ecco ho fatto È molto interessante come meccanica Non me l'aspettavo davvero Quindi in teoria ora qua io dovrei essere in grado Di salire su una di queste Sì Però Ah devo andare qui No 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 E levati Ok bene Quindi aspetta però Ok qui non si casca Ah ma qui c'è questo Ecco E questo è un altro tesoro Specchio pinguino Lo specchio è a forma di igloo E l'igloo è a forma di pinguino Ha senso Per voi ha senso? Se lo ha per voi lo ha anche per me Non è che per me lo abbia molto Però io Per par condicio dico Ok se lo ha per voi lo ha anche per me Dai Ecco Uh Preso Bene Questo è il tema di campi inlevati Vabbè Andiamo a fare baite accoglienti Non mi sembrano molto accoglienti C'erano degli spongiconi mi sembra Sì io li chiamo spongiconi Non è il termine corretto Però Ma quindi Queste qui posso farle cascare Le perline No Sembra che bisogni Ah posso camminarci Bene Allora Uh Ah Posso salire sopra Ah mi dice di andare sopra Allora aspetta Fammi entrare qua dentro Prima Ah posso entrarci qua dentro Più che altro Ah no non posso entrarci Devo per forza andare sopra quindi Certo è più a tema natalizio Sta cosa Però Ah devo tenere premuto A Certo non può andare da solo Sennò come lo riceve il comando E puoi calarmi nel camino? No Non volevo scendere Ah inizia ad arrotolarsi Ah ok No ho lasciato l'oggetto sopra Il tesoro Posso rifarla volendo? No Avanti Qui che c'è? Questo Peccato L'ho visto proprio all'ultimo il tesoro Ma Baite accoglienti Non proprio alla fine eh Perché Tutto tranne che accoglienti Anzi ci vogliono addirittura A schiacciare Chiusiamo se stavolta Ce la faccio a prendere l'oggetto Aspetta un po' Fammi andare qua Ecco vedi Ho scoperto qualcosa di diverso Qui? No qui non c'è nulla Aspetta Invece si c'è qualcosa Qui sicuramente Vado ad andare Ah no qui Vedi che Ah no non c'è nulla invece Mi ho intuito ho sbagliato Ma quindi Ok qui 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 Tranquilli c'è tempo Ci spero Camino Vi si sono incastrati Tanti giocattoli Se riesci a tirarli fuori Te li regalo Beh va bene Perfetto Siamo usciti anche da questa baita Che paura principe Dai su Ah cielo Ah quindi non posso neanche andare qui Sopra volendo Vabbè Entriamo qui Ah Vorrei evitare appunto di cadere Troppo velocemente E quindi Ma non c'era nulla Non c'era un testo Non c'era cd musicale voglio dire Quindi ok Sto tranquillo No la cosa che mi scoccia ora è rifare la prima casa Sono solo quello L'unica cosa che veramente mi dà fastidio Vabbè dai qua Poliziano qualcosa Se no Lo si dì Qua galoppa E mi dà molto fastidio Perfetto vai Ora si è calmato un pochettino Ah questo ovviamente Da sopra no Eh beh certo Ok Ah perfetto Sì Qua Se c'è qui vuol dire che c'è qualcosa qui no Nulla che potesse interessarmi Bene Dove andiamo qui Più veloce per favore grazie Ok Eccolo qua Perfetto Dai andiamo qui che sicuramente c'è qualcosa Ah non c'è nulla qui Per farmi perdere tempo Però che cd musicale è preso Baiti accoglienti Questo è il tema musicale delle baiti accoglienti Ah mi dobbiamo arrivare giusto per il primo tesoro Che noia E infatti non ho preso nulla perché sono un mona E vabbè Dai Rifacciamo subito per il primo tesoro Che tappa era? Spoletta La spoletta volante? Rivoluzione industriale? Certo Spoletta Firo Ovviamente Dove vai? E che lancio lungo? Ah più ad altro Alto Non lungo Avanti Dove vanno I fili del blomo di neve? Ah Solo Uno strato Gli abbiamo volto Monte scivoloso Bene Andiamo un po' Focolare Dagli impasto tanta legna E non dovrai preoccuparti Il prossimo inverno Ok Ma scusami Perché non dovrai preoccuparmi Poi alla fine? Facciamo questo livello Dov'è? 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 È qua Monte scivoloso? Oh Autoscroller? No Non può essere Un autoscroller Troppo Sarebbe troppo Che cos'è? Ah Pinguino? Ok Cioè Pinguino Surfer Non pinguino Perché pinguino? Come fa a essere pinguino? Eh Prendiamo danni Tanto per Gradire Non ho ancora ben capito Come funziona Ma Oh Ah Ah Ok Ah ma devo proprio Sì 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 Ok Oh Abbiamo le ali? Ah ma è solo per uno? Ah Ok No Devo prenderlo sicuramente Lì Beh forse non proprio Però Chissà Ok Grazie Principe Bene Perché? Perché mi odi? Oh Almeno divano berretto C'era il cd prima Il primo e unico letto Che fa il solletico Però è bello caldo Ah vabbè dai È bello caldo Si può perdonare No? Perfetto Non capisco Quando veramente Servono Le ali Perciò Le uso a caso Eh Guardali Guardalo Fogli temi che non lo fa Apposta No ragazzi Ho perso tutto Non ho preso niente Uffa Io piango Io piango Non può essere però così Dai Troppo cattivo il gioco All'inizio te le metteva lì In bella vista Vai tranquillo Ma invece Qua Eh Come capita Come stanno comodi loro Toppa fiocco di neve Ah Rifacciamo anche questo 3 su 3 oggi eh 3 livelli su 3 da rifare Ok Praticamente Una volta che scopriamo Tutto quanto Il cupazzo di neve C'è il boss Giusto? Cavoli Che amo Inizio a girare? Eh si Inizio a girare Uff E dopo 5 volte Ho preso Monte scivoloso Questo è il tema musicale Del monte scivoloso Ah Fatica Inoltre Abbiamo anche Preso Giofa Allora Sì Sono quasi sicuro Che sia Necessario No Ok Finiamolo così Perché ho preso Il cd musitale Quindi non voglio Che vada Perso Preso Finalmente preso Cupazzo di neve Non si scioglie Nemmeno Si accende Il scaldamento Dopotutto È di plastica Ma ragazzi Dopo questo tentativo Lo lasciavo stare Perché non poteva essere Stavo Stavo impazzendo Mi stavo rovinando Il fegato proprio Qua senti Mi brucia tutto Mi brucia Posso capire Che alcuni Devono essere più difficili Ma no Che ci devi provare Diecimila volte Io non sono come quelli Che prima provano il livello E poi lo giocano Io lo gioco direttamente O no Non è così Che si fa Facciamo anche Ruote glaciali E poi vediamo Se non è da impazzire Ci fermiamo Se no Non lo so Si sci Ma cos'è Kirby slitta Kirby slitta Per far cascare Un po' di Di perline Ok Interessante Che cavolo Ma sarai maledetto Sarai Ma io non ci posso Che pure in acqua Stanno Ma pure qua Come fanno a sopravvivere Con le temperature glaciali Guarda questo Davanti agli occhi Ce l'hai Orologio nevuso La neve cade Con la stessa dolcezza Dei rintocchi Di questo orologio Eh ma Se è troppo rumoroso Non va bene Manco eh Aspetta un po' Però Ora che ci penso Tanto non rispauna Ben Sennò davvero Prendeva male davvero Volevo provare a fare una cosa Partire da qua E poi Ecco Perfetto Eccolo Un attimo Vediamo cosa c'era Qua sopra Perché magari Uno non ci vede Ah Dice Ah I geyser Ci sono Cos'è Qui non c'è nulla Perché ci hanno messo Sti cosi allora Giusto E farti perdere un po' di tempo Tu che vuoto Niente Fa Fa la neve Cilli Nel mio intimo C'è Cilli Ah Ecco che si gira Ah Aspetta Ah no Tranquillo Sta lì Oh Stava lì Proprio tranquillo Che mi aspettava Proprio davanti agli occhi Spara di neve Qui dentro Non smette mai di nevicare Mi chiedo come faccio Non spalare la neve Ah 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 Non la spalano Sciocchino Mi piace molto Questo potere Quindi me lo tengo Capo Ah mi fa diventare un blocco Un blocco Un blocco di ghiaccio Non un brocco Un brocco Già ci sono io Quindi Opla Bene Volevo fare una cosa Piuttosto veloce Perché Opla Qui c'è qualcosa Che non mi sconfinzerà Ecco infatti Infatti Eheh Eccolo Ruote glaciali Questo è il tema musicale Delle ruote glaciali Vedi però Kirby Non ti puoi arrabbiare Perché ti mettono La musica E' troppo Tranquilla No Aspetta No Allora non ci capiamo Ah posso anche Fermarmi Non so come L'ho evitato Quell'ultimo tratto Non lo so davvero Si Kirby Però Puoi salire Puoi salire Ah ecco Puoi salire No Ma te lo dico Perché Magari non lo sai Però puoi salire Tranquillo No perché Quando è in acqua Proprio perde Tutti quanti i poteri Non va tanto bene Perché In genere Ma perché mi fa scegliere Il potere Visto che siamo ormai Alla fine del livello Si in effetti Potrei andare Potrei provare A prendere L'oro Perfetto Però è carino Kirby Slitta Ah Eh Vedi Se tu Cambia Se uno Cambia potere Deve stare più attento Invece Non l'ho cambiato E sono furbo Molto carino Questo livello Più che altro Il potere di Kirby È essere interessante Molto bello Beh non ha preso nulla Chi se ne importa Però i tesori Almeno Tutti a primo tentativo Qua proprio Davanti agli occhi Te li mettevano Non devi fare Nessun trick assurdo Per prenderli Invece di là Ragazzi È davvero Tremendo Certe volte Troppo facile Altre volte Troppo difficile Hai trovato La toppa Polveri di diamanti Va bene Mi sa che ora C'è il boss Vero? Se apriamo questo livello Sì Si arrabbia perché Robiamo tutto quanto Il filo C'è una sciarpa Chi sarà il boss? King De 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 Ah Bene Va bene Ok Allora Kuge Nel prossimo episodio Affronteremo King De 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 Non vedo l'ora Ad ogni modo Io spero che questo video Vi sia piaciuto E come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo ovviamente Che in descrizione Trovate il link per Instagram E se ancora Non siete iscritti A canali Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Bye bye Ciao